Ciao, mi chiamo Leonardo Spano, vengo dal centro Sardegna e gioco a tennis da quando avevo 5 anni. Mi ricordo il primo giorno che ci siamo visti, eravamo in un'aula, il primo che ho conosciuto è Pugliese, Federico, ci siamo conosciuti fuori in realtà, poi siamo entrati e il secondo che ho conosciuto è Cristian. La giornata è stata spaziale perché erano tutti simpaticissimi e io non mi aspettavo sin da subito di avere così tante cose e di riuscire a fare così tante cose in una giornata. Ciao, sono Katia Piazza, vengo da Palermo e gioco a tennis da quando ho 5 anni. E' quello che mi ricorderò di più quando ho giocato con Lorenzo Sonego. Com'è stato? E' bellissimo! Grazie a tutti!